Dopo lo stop per la mancanza di forniture, sono stati riaperti i termini per la vaccinazione con il vaccino Pfizer della cosiddetta fase 1. È aperta a tutti gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private accreditate per il personale dell'RSA e per tutti gli altri professionisti, anche privati, operanti in Toscana. La possibilità di preaderire è rivolta anche a coloro che non avevano potuto farlo in occasione della finestra aperta tra il 15 e il 18 dicembre 2020, se appartenenti alle categorie indicate. Ci sono delle defezioni, soprattutto nel personale amministrativo, che non ha rifiutato di fare questo vaccino? Ma vi dirò di no, anzi nel mondo amministrativo noi abbiamo, ma quello che a me arriva sono gli amministrativi che vogliono fare il vaccino, soprattutto gli amministrativi non solo dell'ospedale a cui le prenotazioni erano già state aperte, ma quelli del territorio che invece giustamente erano anche in fase di priorità un pochino più avanzata, meno avanzata e loro stanno insistendo per fare il vaccino. Quindi in questo momento sia dagli operatori sanitari che amministrativi noi abbiamo un'alta attenzione e un'alta voglia di vaccinarsi. Come ti senti ad aver effettuato questa prima dose? Sinceramente tranquillo. Per ora niente, poi naturalmente bisognerà aspettare anche il richiamo per vedere qualcosa e per capire soprattutto. Hai fatto questo vaccino senza dubbi, senza remore? Ah beh, uno non ci va mai a cuore leggero, comunque come cose sono nuove, però sicuramente senza remore, senza dubbi, magari un po' meno, però adesso sono tranquillo, devo essere sincero. Noi, come lei sa, abbiamo aperto una piattaforma per 120.000 persone all'interno della regione che è stata completata a dicembre. Tutti coloro che vengono richiamati poi a prenotare la propria data lo hanno fatto e non abbiamo avuto defezioni al momento, cioè non abbiamo avuto quel 10-20% che ci saremmo anche aspettati. C'è stato in una fase iniziale sul volontariato, ma perché la prima volta, la settimana scorsa che aprimo il volontariato, l'informativa con i volontari era stata un pochino più troppo velocizzata, per cui alcuni si erano resi veramente poco conto di quello che stava accadendo. Adesso che l'informazione invece passa di più, che è ben organizzata a casa loro, ne sono più consapevoli. Le poche defezioni che abbiamo avuto fra i nostri dipendenti sono coloro che arrivavano e su cui veniva fuori alcuni problemi. Non so che avevano avuto la vaccinazione dell'influenza 10 giorni prima, oppure che avevano avuto delle allergie importanti che non permettevano di fare la vaccinazione in tranquillità. Però grosse polemiche non ci sono state.